Nuovo tonfo del Mila, dopo quello della Juve e mezzo pari a Napoli, l'Udinese impone 1 a 0, il Mila gioca ma l'Udinese a sprecare con Pereira da pochi metri. Calabra e Moussac impegnano Silvestri, Leao spara alto, Florenzi manca la stoccata, Bianconieri pericolosi conflesti per il Mila Chance Raiders, Pereira spiazza Mignon dal dischetto. Sessantaduesimo, il portiere del Mila nega il raddoppio a Suces, Silvestri vola su Giroud e Florenzi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!